E la crisi è entrata in casa, il mercato immobiliare è fermo e quello delle nuove costruzioni in perdita secca del 45% negli ultimi 5 anni. A lanciare l'allarme la CNA resiste il comparto delle ristrutturazioni perché il committente pubblico è scomparso dall'orizzonte. Intanto cambia con il mutare della demografia e fa bisogno abitativo dei romani. La capitale si svuota e si popolano di stranieri e giovani i comuni dell'Interland.